buongiorno a tutti amici nexus lab sono alessandro e torniamo nella nostra formula abituale delle video recensioni visto che il 2014 si è aperto e la stagione calda sta arrivando iniziamo con una video recensione per abbastanza soft per inaugurare la nuova telecamera una recensione che verte su un telefono del 2013 protagonista del 2013 tra i device di fascia medio bassa stiamo parlando del huawei ascent g510 uno smartphone veramente interessante che ha fatto tantissime vendite anche 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 qua in italia vediamo subito la confezione di vendita che abbiamo già opportunamente aperto confezione piuttosto classica abbiamo il telefono come potete vedere evidenziato nella parte superiore telefono che vi diciamo subito è personalizzato da e brand team e le personalizzazioni sono abbastanza evidenti in alcuni casi forse anche eccessivi visto che abbiamo qualche animazione di troppo di team che ci rallenta soprattutto la fase di accensione allora andiamo a scoprire cosa abbiamo dentro la confezione abbiamo questo manualino di guida rapida per inserire la batteria ai tasti cosa servono eccetera manualino che il 99% di vuoi neanche aprirà abbiamo il caricabatterie classico usb micro usb cavo condiviso per i dati unica cosa che dobbiamo dobbiamo dire piccola critica huawei anche se minima è un leggermente un po grande questo caricabatterie si vede che comunque il device è di fascia medio bassa o bassa questo è il cavetto che vi illustravamo prima classico mentre qua abbiamo le cuffie standard auricolari di qualità abbastanza bassa qualità bassa soprattutto nell'ascolto di musica mentre abbastanza sufficiente per le chiamate il microfono integrato nell'auricolare si sente abbastanza bene andiamo però a scoprire il succo di questo prodotto ovvero la scendogy 510 eccolo qui device da 4.5 pollici non piccolissimo facciamo un rapido confronto con per esempio un nexus 5 come potete vedere nexus 5 da 5 pollici ma pur avendo una cover abbastanza bombata risulta non tanto più grande di questo g510 allora abbiamo infatti delle dimensioni abbastanza generose e soprattutto un peso anche abbastanza generoso di 150 grammi misure 134 per 9.9 per scusate 134 per 67 per 9.9 millimetri di spessore parte frontale abbastanza classica abbiamo un led di stato come potete vedere nella parte alta piccolissimo multicolore abbiamo poi un display da 4.5 pollici come vi dicevo ampio ampissimo anzi spazio sia sopra che sotto il display forse fin troppo mentre la cornice ai lati risulta abbastanza standard tasti soft touch classici non ci stoppiamo della dotazione dei tasti ormai in questo stile abbiamo una parte destra completamente pulita quindi tasto di blocco sblocco e sulla sinistra noi sinceramente ormai ci eravamo abituati a destra quasi tutti i telefoni ormai lo adottano a destra o gli lg tipo il g2 lo adottano nella parte posteriore ci viene essendo noi destri ci viene quasi un po' scomodo sbloccare il telefono qua è solo una questione abitudine bilanciere del volume invece posto esattamente al solito opposto allora parte bassa troviamo il microfono e questa piccola fessura per togliere la cover rimovibile dato che la batteria è sostituibile parte sinistra abbiamo appena vista abbiamo anche il connettore micro usb parte alta abbiamo unicamente il jack da 3,5 per le cuffie o gli auricolari parte posteriore vero fiore all'occhiello di questo g510 abbiamo infatti questa bellissima parte alta ma prima della parte alta vorrei analizzare un attimo la cover cover veramente ben fatta plastica rigida ma di ottima fattura quasi da top di gamma superiore anche a diversi smartphone molto più brazonati sinceramente andiamo a staccare questa è la cover come potete vedere molto rigida questa è la batteria huawei slot per la sim standard e per la micro sd per aumentare anche la quantità di memoria interna andiamo a chiudere ok come potete vedere si aggancia in un attimo abbiamo questa rifinitura che si trova in tutta la parte posteriore della cornice molto carina e poi abbiamo sia l'anello cromato intorno all'obiettivo sia questo cerchio in plastica bombato che ci consente di non appoggiare direttamente l'altoparlante per terra e poi il logo dts huawei in bella mostra molto carino la parte posteriore sicuramente superiore a quella anteriore piuttosto anonimo come detto 150 grammi tantino per uno smartphone comunque di livello abbastanza basso si vede che huawei ha pensato più alla qualità dei materiali e non ha pensato alla miniaturizzazione di alcuni componenti andiamo ora a sbloccarlo come potete vedere ci troviamo già in una schermata di blocco sblocco personalizzata dove abbiamo tre scorciatoie più lo sblocco a destra allora vi dico subito che il sistema operativo è ancorato purtroppo una versione non più recentissima di android la 4.1.1 jelly bean con la interfaccia di huawei la emotion ui 1.0 non sembra che verranno rilasciati in futuro altri aggiornamenti almeno huawei non ne ha parlato per niente un peccato soprattutto perché kitkat sarebbe forse stato una mano dal cielo per questo smartphone visto che ha solo 512 megabyte di ram come ben saprete kitkat gode molto di una gestione di ram migliore rispetto soprattutto alle prime versioni di jelly bean allora analizziamo subito l'interfaccia come potete vedere chi ha uno degli ultimi smartphone di huawei saprà benissimo che non esiste un drawer ma come le miui abbiamo tutto a livello di home page abbiamo sia i widget sia la classica barra di ricerca di google qua abbiamo qualche applicazione di team come detto è un brandizzato team e poi abbiamo direttamente il nostro drawer sulle schermate home con tutto l'elenco delle applicazioni qua il bella mostra come potete vedere ci sono delle animazioni animazioni che sono a disposizione dell'utente diversi tipi basterà tenere premuto il dito sul display per aprire questo menu di personalizzazione questo menu ci consente di scegliere uno gli sfondi sfondi che vanno anche a pari passo con i temi come potete vedere viene visualizzata anche l'icona temi se no avremo sfondi animati o tutta un'altra serie di sfondi già pre installati come potete vedere qua abbiamo anche degli sfondi molto carini allora poi abbiamo le transizioni transizioni che vanno a cambiare le nostre appunto transizioni tra le home page metto più dritto magari ci vedete anche meglio tra le home page proviamo a mettere per esempio quella a cilindro come potete vedere la home si animerà e si vedrà questo tipo di home page facendo un pinch out pitch in scusate potremmo scegliere sia qual è la nostra home page per esempio questa 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 e aggiungere altre pagine al nostro menu in modo da poter ritornare anche nella home che abbiamo selezionato cosa su cui punta molto con la sua Emotion UI 1.0 ma soprattutto con le versioni successive che speriamo arrivino in qualche modo abbiamo i temi temi che vanno a personalizzare diversi aspetti del telefono dalle icone tanto ve lo cambio dalle icone alla schermata di blocco allo sfondo allo stile va a modificare diversi aspetti che sarà una vera chicca per chi ama personalizzare temi che sono assolutamente personalizzabili ed editabili come potete vedere questo è un po' più minimale abbiamo delle icone più semplici in stile quasi kitkat come potete vedere il dialer e per il resto ha modificato anche lo sfondo e quindi lo stile allora modificando addirittura la parte alta della della come potete vedere tendina tendina che si è abbassata ci consente di selezionare disattivare alcuni anzi qua praticamente tutti i controlli che ci sono nel telefono o i sensori abbiamo il wifi il gps i dati 3g la ruotazione automatica la luminosità automatica adesso ve la riabbasso se no non vedete più niente ok la altri aspetti anzi teniamola al minimo altri aspetti come bluetooth silenzioso o altro per scegliere selezionare quali di questi controlli si vogliono avere in prima vista sulla tendina abbiamo anche i profili profili raggiungibili sia a livello di questa scorciatoia come potete vedere abbiamo questi profili pre installati con questa bellissima animazione del device adesso rimettiamo normale normale attivo possiamo impostare la stessa cosa attraverso il menu profili che troviamo anche qua profili che qua sono gestiti in maniera diversa possiamo editarne di nuovi possiamo aprirne e editare quelli già esistenti ok attivato il risparmio energetico purtroppo scusate ho schiacciato ok rimettiamo come era prima riattiviamo il wifi ok siamo di nuovo online con tutte queste diverse opzioni sospendi luminosità 52% del display la vibrazione o il volume della suoneria tutte opzioni molto carine che in android standard per esempio non troviamo ancora andiamo invece a vedere il dialer dialer che è personalizzato da huawei non in maniera estrema ma comunque troviamo sia la ricerca dei contatti con il tastierino numerico rapida come potete vedere sia uno stile diverso appunto della tastiera per il resto non abbiamo tante altre funzioni a livello di dialer abbiamo qua la rubrica rubrica anche qua che viene in minima parte personalizzata e poi i gruppi e i profili invece tastiera tastiera anche qui abbiamo una gestione della tastiera che praticamente viene demandata ad android jelly bean stock visto che è la medesima tastiera che troviamo in qualsiasi smartphone senza troppie personalizzazioni proviamo a scrivere riapriamo un messaggio alessandro per nexus lab come avete visto non ho fatto un errore tastiera molto sensibile ha un ottimo feedback tattile feedback tattile che io ritengo essenziale su un telefono che ci consente di avere un feedback alla pressione sbagliando anche un po' meno allora poi altre applicazioni preinstallate abbiamo un gestore file molto basilare praticamente ci consente di leggere all'interno di tutta la memoria del telefono della scheda sd che in questo momento non è presente abbiamo le impostazioni della modalità energetica quella che si è attivata in automatico prima la modalità energetica si abbassa e i dati in background vengono disattivati o limitati e poi abbiamo quest'altra app consenti per il meteo molto carina con queste animazioni stile sense molto ben fatte sinceramente proviamo ad andare su una giornata di sole abbiamo altre animazioni purtroppo i prossimi giorni ecco abbiamo l'animazione della neve i prossimi giorni non abbiamo altre previsioni positive da farvi vedere o mostrare passerei un attimo alla parte hardware per poi ritornare con la software abbiamo un device che si poggia appunto su questo display da 4.5 pollici con risoluzione abbastanza buona 854 x 480 pixel il display in effetti è piuttosto bello da vedere pur essendo un TFT quindi abbiamo un livello dei colori soprattutto un livello dei contrasti che con angoli di visuale un po' elevati vanno a cambiare notevolmente ma sinceramente essendo uno smartphone si usa frontale quindi il problema è abbastanza limitato e quindi il display è assolutamente approvato un ottimo display per un device di questo tipo invece delude un po' non tanto la CPU una Snapdragon S4 di una cosa 1.2 GHz ma delude un po' il quantitativo di RAM 512 MB non sappiamo risultano essere un po' pochi non sappiamo se è a causa delle tante personalizzazioni presenti e app presenti nel nostro G510 ma abbiamo conferme che comunque la RAM risulta essere uno dei talloni da kille di questo telefono proprio perché ci porta ad avere numerosi rallentamenti soprattutto con tante app aperte non vi ho fatto vedere il multitasking come potete vedere qua abbiamo la RAM libera 91 MB e abbiamo aperto sì un po' di roba ma tutta roba abbastanza statica proviamo a chiuderla come potete vedere invece di tra un po' di aumentare non è che aumenti più di tanto la situazione ok abbiamo poi una memoria di 4 GB di storage fissi di cui ben 3 sono occupati dal sistema operativo dal firmware questo perché non lo sappiamo non ci sono tantissime personalizzazioni comunque risulta essere ben 3 GB occupati 1 GB ci rimane quindi è obbligatorio praticamente mettere in conto o l'acquisto o l'inserimento di un microSD di cui già siete in possesso perché altrimenti non riuscirete a scaricare molto abbiamo anche mentre ci sono vi faccio vedere un'applicazione per il backup del telefono carino molto essenziale non pensate che backup totalmente le applicazioni eccetera backup fa solo il backup dei contenuti più che altro multimediali del vostro device tra cui foto musica video e poi li ripristina su un'altra o la stessa SD o la stessa SD appunto fotocamera fotocamera altro piccolo piccolo difettuccio perché è piuttosto lenta a scattare ovvero se si scatta velocemente scordatevi foto buone proviamo a scattare con tranquillità abbiamo fortunatamente un autofocus andiamo a vedere non abbiamo chissà che dettaglio della foto ma più che altro la foto risulta sempre essere un po' mossa mai perfetta mai nitida cosa che abbiamo fatto presente anche nel nostro prova fotografica diretta soprattutto nelle situazioni un po' più buie col flash per esempio prendiamo questa foto eccola qua il flash risulta quasi abbagliante rispetto alla qualità dello scatto quindi o è malcalibrato o proprio questo flash led non si sposa benissimo con questo sensore situazione diversa invece in ambienti un po' più larghi come potete vedere la qualità è più che buona mentre a livello di autofocus eccetera bilanciamento del colore della luce dei colori abbiamo qualcosa a ridire per esempio facendo la foto questa candela si vede come una sola piccola candela ci abbia abbagliati allora troviamo naturalmente tutte le app di google preinstallate tra cui alcune godono anche delle icone personalizzate tipo il calendario o gmail mentre altre tipo maps non viene personalizzata troviamo ho inserito anche una piccola applicazione che ci consente di fare di utilizzare DLNA per trasmettere contenuti qua per esempio a una tv o a qualsiasi altro dispositivo compatibile troviamo inoltre se la trovo ultima pagina altre qualche applicazione personalizzata tipo preinstallata la torcia anche qua molto semplice abbiamo tre livelli di torcia la radio FM cosa gratuitissima naturalmente per utilizzare l'antenna dobbiamo attaccare le cuffie e un registratore molto basilare prova 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 come potete vedere abbiamo anche il livello dell'audio e praticamente basta alla fine abbiamo anche questo lettore musicale piuttosto carino con le copertine compatibile con le copertine delle varie canzoni e qualche widget personalizzato come vi mostro in questo momento come potete vedere la navigazione dei widget è già piuttosto laboriosa allora proviamo a mettere questo orologio personalizzato lo mettiamo qua dentro possiamo selezionare uno degli stili questo è molto carino ok come potete vedere abbiamo questo widget molto carino che tra l'altro viene distrutto in quattro pezzi quando abbiamo questa animazione a cilindro scusatemi sistema un attimo la telecamera ora come ultime cose vi farei sentire la parte multimediale molto importante in questo telefono gestione file andiamo in download e vediamo cosa riusciamo ad ascoltare e a vedere iniziamo con Shakira allora abbiamo un audio grazie anche al DTS molto superiore rispetto a tantissimi altri device l'altoparlante si comporta benissimo suono abbastanza alto pulito soprattutto e con anche qualche accenno di tono basso quindi assolutamente promosso da questo punto di vista superiore a molti altri smartphone anche superiore al Nexus 5 sinceramente andiamo ad aprire un AVI video player come potete vedere il lettore standard non riesce a leggerli possiamo tranquillamente installare qualsiasi altro dispositivo lettore che sia compatibile andiamo adesso a vedere un video in HD scusate per il doppio tap ma sono abituato alle versioni più recenti di Android come potete vedere i video in HD in MP4 vengono visualizzati senza nessun problema adesso guardiamo un video in full HD che potete vedere ha qualche problema di gestione l'altra volta siamo riusciti a vederlo interamente purtroppo questa volta non è consentito non ce la fa quindi con altri lettori multimediali siamo riusciti a vederlo in maniera superfluida quindi anche qua forse più per problemi di RAM che di processore siamo un po' limitati che dire finiamo con la parte telefonica e la batteria abbiamo una batteria da 1700 mAh come avete potuto vedere quando vi ho aperto la cover posteriore batteria che ci porta agevolmente a fine giornata siamo riusciti anche a fare un giorno e mezzo con un utilizzo medio intenso comunque una durata la batteria più che buona mentre a livello di telefono telefono puro ci troviamo di fronte un ottimo telefono prende anche in situazioni un po' più estreme ottima ricezione ci sentono molto bene sia in chiamate voip sia in chiamate normali classiche e noi sentiamo anche molto bene la capsula auricolare si comporta quasi come l'altoparlante quindi direi che è tutto tirando le somme questo G510 si conferma essere un buon device da rapporto qualità-prezzo eccezionale e soprattutto questo rapporto qualità-prezzo e la parte estetica e anche audio gli consentono di spiccare rispetto ad altri smartphone naturalmente se Huawei riuscisse ad aggiornare una versione più recente rendendo più leggero il sistema operativo si avrebbero grandi vantaggi per il resto un acquisto che rimane consigliato assolutamente a questo prezzo difficile trovare di meglio quindi direi che è tutto con la nostra votazione ha preso un bel 7,5 non un 9 ma neanche un 6 un saluto da Alessandro per Nexus Lab